Questa mattina a Roma, presto il Mises, è riunito il tavolo di crisi per il Mercatone 1 alla presenza dei nuovi commissari, dei rappresentanti del Governo e del Parlamento, oltre alle parti sociali. Si sono insediati i nuovi commissari e si sono presentati al tavolo. Tra i tre commissari che dovranno guidare la seconda amministrazione straordinaria di Mercatone 1, la società dichiarata fallita che conta 55 stori in Italia, di cui tre in Abruzzo, a San Buceto, Scerni di Pineto e Colonnella, c'è anche il commercialista pescarese Giuseppe Farchione. Due punti cruciali dell'incontro al Mise. Il primo la tutela dei lavoratori con l'obiettivo di attivare gli ammortizzatori sociali in via straordinaria, mentre il secondo è quello di confrontarsi sul mandato affidato ai nuovi commissari. Speriamo che nella giornata di oggi possa produrre quel famigerato accordo di cassa integrazione che possa poi da domani mettere finalmente in cassa integrazione tutti i lavoratori del Mercatone 1 e iniziare a dare un sostegno al reddito ai lavoratori che ad oggi, lo ricordiamo, sono sospesi. Ad essere interessati della situazione ci sono anche i lavoratori dell'indotto della ex Mercatone 1, rimassi con un pugno di mosche in mano dall'oggi al domani. Ci sono i lavoratori impiegati in pulizia, c'è anche qualche lavoratore che ha prestato attività lavorativa come elettricistra nel Mercatone e quindi c'è anche un indotto lavorativo che ovviamente produceva l'ex Mercatone 1 che è rimasto fermo. In più appunto le impiegate delle pulizie all'interno dell'area dell'ex Mercatone 1 ad oggi sono state praticamente abbandonate. Da aprile non ricevono più lo stipendio, l'azienda non ha comunicato nulla, quindi di fatto non sono licenziate, non si può attivare un percorso anche di cassa integrazione e le lavoratrici non hanno assolutamente nessuna certezza né sul loro futuro ma nemmeno sul loro presente, quindi ricordiamo che da aprile non ricevono più un sostegno al reddito.